Santi Simone e Giuda Dal Vangelo secondo Luca In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare, e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli, e ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di Apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro. Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli, che erano tormentati da spiriti impuri, venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco Gesù se ne andò sul monte a pregare, e passò tutta la notte pregando Dio. Se ci fermassimo anche soltanto a contemplare questa indicazione iniziale del Vangelo di oggi, ci accorgeremo che la preghiera è un tratto decisivo nella vita di Gesù. La preghiera per lui non è semplice ritualità, ma è ossigeno, perché la preghiera di Gesù è relazione con suo padre. Gesù non si comporta da supereroe, che non ha bisogno di nessuno, perché dotato di un superpotere che lo rende autosufficiente rispetto al resto del mondo. Gesù mostra che il suo tratto vincente è nella relazione con suo padre, e per questo prega. Inoltre, la sua preghiera non è mai un evento separato dal resto della sua vita, ma ne è come la rincorsa. Infatti, dopo che prega, accade o decide qualcosa di importante. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli, e ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli. Gesù prega per scegliere, prega per decidere, prega prima di agire, prega per capire, prega per affidarsi. E soprattutto, la sua non è una preghiera alienante, ma una preghiera che sa passare dall'intimità, il monte, alla realtà, la pianura. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tito e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. La preghiera non produce solo un effetto in lui, ma anche un effetto sugli altri. E' bello ricordarsi che la preghiera non agisce solo in chi prega, ma anche in chi incontra quelli che pregano. Se ciascuno di noi pregasse seriamente, allora cambierebbe la vita anche delle persone che hanno a che fare con noi. In Gesù, ad esempio, è una forza che agisce con potenza su tutti quelli che lo incrociano per un motivo o per un altro. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti.